Giuseppe di Arimatea aveva concesso il proprio sepolcro dove Gesù fu deposto e dove una grande pietra fu chiusa all'entrata. Ma tre giorni dopo, il primo giorno dopo il sabato, le donne si recarono al sepolcro per ungere Gesù, ma trovarono il sepolcro aperto e il lenzuolo in cui era stato avvolto piegato da una parte. Un angelo gli venne incontro. Esse si turbarono, ma l'angelo chiese loro di non turbarsi, piuttosto annunciò che Gesù era risorto e non dovevano cercarlo tra i morti. E così si ricordarono le parole di Gesù come l'angelo aveva chiesto di fare e gioirono profondamente di questo grande dono. Corsero per dirlo ai discepoli rimasti al cenacolo annunciando che Gesù era risorto, ma Gesù stesso apparve loro e si mostrò vivo e risorto, sebbene Tommaso non fosse presente e... E tornò per lui facendogli vedere i segni della passione. Tommaso e i discepoli esultarono e Gesù spiegò loro la missione che stava per affidare, di annunciare a tutto il mondo la presenza di Dio capace di amare, mentre lui sarebbe scritto al cielo per custodirli dall'alto e non abbandonarli mai più con la sua presenza, nel dono dello spirito e nella sua vicinanza di amore. Ed essi giugliano. Ed essi giugliano.